Nome? Elena Schiaffino. Dove vivi? A Milano, ma in realtà a giro, parecchio. Raccontaci il tuo percorso professionale in meno di un minuto. Ho fatto il liceo classico, laurea in giurisprudenza, giornalista già durante l'università, successivamente media relation e pubbliche relazioni, sino ad incontrare internet al momento della sua nascita in Italia, quindi fine 1994, partecipando allo start-up di video online a Cagliari. Successivamente ho fatto lo start-up di T-Meet in Telecom Italia e quindi dal 2000 sono partner di Engitel. Cosa fai oggi? Come partner, co-founder di Engitel ci occupiamo di realizzare siti, portali e app per i clienti. Ne abbiamo realizzati oltre 3000, tenendo molto alto lo skill tecnologico e cercando sempre di servirle al meglio. Lasciaci la tua pillola di saggezza per il futuro. Non avere paura. L'unica cosa di cui io mi dispiaccio è che nel passato ho rifiutato di ruoli anche molto importanti perché pensavo di non essere magari adeguata, essendo una perfezionista, mentre col seno del poi ho visto che coloro che poi hanno accettato dopo di me avevano degli skill inferiori, e quindi davvero ai miei figli vorrei dire non abbiate paura di intraprendere nuove strade o di non sentirvi all'altezza.